Una delle domande che le giovani romitiche mi fanno più spesso è ma come faccio a far avere una bella smossa a questo ragazzo al quale penso di interessare ma non si muove, non mi chiede il numero di telefono, non mi chiede di uscire e la domanda la farei io a voi, ma veramente, ma vabbè, ok? Ho fatto altri video su questo, andatevi a guardare, siamo arrivati a quasi 700 video in questo momento 700 video ragazzi, 700 video che avete guardato tutti quanti in bagno perché lo sappiamo che li guardate lì i video ma va benissimo, va benissimo, l'importante è ottenere il risultato quindi vi do un'ulteriore tecnica che potrebbe essere davvero quella che fa la differenza e fa decidere il maschietto vediamo immediatamente questa tecnica, io la chiamo la tecnica dell'ultimatum perché è realmente un ultimatum ma non intimato in maniera aggressiva che questo, già se spaventa pure della sua ombra non possiamo anche aggredirlo ma fatta in maniera più velata, più nascosta una cosa del tipo è per il motivo X forse questa è l'ultima settimana che ci vediamo ad esempio potete inventarvi che vi devono trasferire per lavoro o magari è reale questa cosa insomma, una motivazione superiore sulla quale voi non avete potere che vi porterà a non vedervi mai più questo vi assicuro nella mente di un uomo è un chiaro messaggio del tesoro datti una svegliata perché mi stai per perdere quindi in maniera per nulla aggressiva voi state dicendo a questo ragazzo guarda che o adesso o mai più e voi non avete idea di quante situazioni ho aiutato a sbloccare in questa maniera quando facevo le consulenze non le faccio più ma comunque tutte queste cose le inserite all'interno di magia fatevi... magia non vuol dire sparire, ok? magia vuol dire le regole della magia dove spiego tutte queste tecniche che vi aiutano a rendere un po' più semplice la situazione sono cose che funzionano e che potete come questa utilizzare in maniera molto semplice senza snaturarvi dire una cosa del genere non vi snatura per niente però aggiunge quel quid che aiuta la situazione a sbloccarsi andate e ingolusitevi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti